Ora, quando voi venite al mondo, quando nascete, arrivate vuoti. Niente, niente, giusto? Vuoto. Ma nel momento in cui nascete, un minuto dopo, cominciate a ricevere messaggi dall'esterno. Questo è bene, questo non è bene. Bene, male, bene, male, bene, no, sì, no. Tutti messaggi del genere, provvedienti da altre persone. Quindi nella vostra mente, proprio ora, voi avete molti, molti, molti anni di messaggi, informazioni provenienti da altre persone, e in realtà avete le loro menti nella vostra testa. Ci siete? Bene. Ora, la maggior parte di questi messaggi, quando si tratta di denaro e ricchezza, non è positiva, specialmente in Europa. Perché? Sto per dirvi una cosa. Ascoltate, non sono qui di nuovo per sfidare. Per sfidare. Beh, da dire il vero sì. Ok, non dovrei dirlo. Vediamo, sono qui per sfidare il normale. Sfidare. Mettere in discussione ciò che voi normalmente pensate, e ciò che vi è stato detto. E voglio che voi sfidiate ciò che potreste credere vero o non vero. Ok? Perché ci sono molti messaggi che avete recepito a proposito del denaro che non sono favorevoli al successo. E vi ho detto, specialmente in Europa, volete conoscere il motivo numero uno per cui in America l'idea di arricchirsi e quella del denaro è molto più accettata che nella maggior parte dell'Europa? e in molte parti del vostro continente se dite a qualcuno «Voglio essere ricco!» lui vi guarderà e dirà «Ma che razza di persona sei?» Non sei una brava persona. Giusto? Non è una cosa appropriata dire «Voglio essere ricco!» La gente pensa «Ah, che brutta persona!» Vero? Coraggio, sì. Sì. Ma allora, perché è più facile in America? Se dite «Voglio essere ricco!» la gente dirà «Eh, buon per te, vai!» Qui, invece? Eh, non sei una brava persona, non hai cuore, ma che dici? Non hai famiglia, il denaro non è tutto, i soldi non sono importanti, no, assolutamente! Giusto? Ora, ascoltate, ecco perché in America è ok e in Europa non lo è. Mi state ascoltando? Perché l'America è giovane. l'America ha solo più o meno 240 anni. voi avete qualcosa come duemila anni. Voi avete subito il lavaggio del cervello. o un lavaggio del cervello per oltre duemila anni per convincervi che non dovreste essere ricchi. perché? Perché? Spiegatemi perché soltanto l'imperatore può. Solo il re è ricco. Solo la monarchia è ricca. E il resto del popolo deve essere povero. perché? 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 Perché è così? Perché? Perché affinché loro potessero rimanere al potere potere dovevano tenere voi in povertà. E' giusto? Ora, duemila anni fa non c'era niente che avreste potuto fare. Ma non siamo più a duemila anni fa. Questo è il presente. Questo è un nuovo giorno. Questo è un paese libero, grazie a Dio. Vero? E non c'è non c'è nessuno che possa dirvi qualcosa. Nessuno che possa dirvi che ora non potete essere ricchi. Che non dovreste essere ricchi. Nessuno che ve lo dica più eccetto una persona. Voi stessi. Solo voi ormai. mi capite? Dunque, tutto il seminario è una sfida a ciò che potrebbe essere nella vostra testa messo lì da altre persone e altre organizzazioni per tenervi dove siete già. Non necessariamente per farvi del male. ma non è comunque utile. E desidero che comprendiate una cosa. Io io so qualcosa su di voi so qualcosa su ogni persona in questa sala. voi siete la nuova Italia. Il nuovo volto dell'Italia. Siete la nuova Italia. Voi siete parte della nuova Italia. e vi dirò questo. Ascoltate attentamente. Desidero chiarirlo subito. Non dovete essere d'accordo con l'intero seminario. Non dovete essere d'accordo con ciò che funziona per me stesso. Io ho oltre un milione e mezzo di studenti in tutto il mondo. Un milione e mezzo. Sono tanti, vero? E allora lasciatemelo dire subito. È semplice. Ricco è meglio di povero.